Ed un'altra tragedia che costata la vita ad un giovane centauro di 20 anni si è consumata qualche giorno fa. Viva commozione ai funerari del ragazzo conosciuto e stimato da tutti. Erano le 11.45, stava rientrando a casa a bordo del suo scooter Giuseppe De Mattia, 20 anni, di San Michele di Serino, nella Vellinese, quando è stato falciato da un'auto che andava ad altissima velocità. Una scena agghiacciante si è presentata ai genitori, primi ad arrivare sul luogo dell'incidente. Era amato da tutti, gli amici lo definivano un ragazzo di una volta, semplice, buono, lavoratore, amici che non sono voluti mancare all'ultimo saluto e che lo hanno salutato come sarebbe sicuramente piaciuto a lui, con il rombo di auto e di moto. I funerali della chiesa di San Michele di Serino stracolme di persone, in silenzio ad ascoltare l'omelia ai ragazzi dell'Avellino Atomica Touring Club ed i gruppi motociclistici, i 40 pistoni e cilindri di Avellino e la banda degli onesti di Salerno. Insieme a loro in chiesa il sindaco, il comandante dei carabinieri e quello del distaccamento di zona della Guardia di Finanza. Un dolore sentito e partecipato da tutti, sospesa anche la festa di San Michele di Serino.